Continua positivamente la ripresa dall'emergenza coronavirus del territorio provinciale che registra ancora una volta nessun contagio nei tamponi esaminati nella giornata di ieri al Ruggi di Salerno con 309 tamponi negativi su 309 riguardanti soggetti residenti nella provincia. Nel Cilento, a Vallo della Lucania, raggiunti zero contagi dopo le guarigioni della scorsa settimana anche l'ultimo soggetto vallese positivo al covid-19 è guarito come gli altri tre casi. Al reparto covid del San Luca restano solo due positivi ma in via di guarigione le infermiere di Agropoli e San Mauro Labruca. Ad Agropoli, dopo l'incremento di guariti di pochi giorni fa, restano solo sette i casi attualmente positivi e, come dichiarato dal sindaco Coppola, per alcuni di loro il primo tampone ha già dato esito negativo e si attende il secondo. Il bilancio del territorio cilentano è di sette positivi ad Agropoli, a cui si aggiungono 19 guariti e tre decessi, tre a Casalvelino, uno a Vibonati, Sessa Cilento, Laurino e San Mauro Labruca. Nel Vallo di Diano continuano le guarigioni e non si registrano fortunatamente nuovi casi, con il totale che resta 154 casi e 16 decessi.